Luca Palnero, non sei un novizio della categoria della Serie C, le esperienze con Paganese e Acragas erano state già importanti, ma quest'anno stai raggiungendo, sia singolarmente che con la squadra, dei livelli mai toccati? Sì, Cosenza è una grandissima piazza, in Cicentra poco, purtroppo stiamo facendo un gran campionato, sappiamo che si può fare sempre meglio, sono contento dei livelli raggiunti quest'anno, sia a livello individuale che a livello di squadra, però possiamo sempre migliorarci. Ecco, le squadre che vi aspettano sono il Catania, il Lecce e la Regina in campionato, ci sembra che in questo momento siano più gli avversari a temere il Cosenza, si parla tanto a Catania del Cosenza in questi giorni, ne ha parlato il direttore, ne ha parlato il mister, ne parlano i calciatori, il Cosenza sembra un po' una mina vagante, peccato appunto per l'inizio. Sì, l'inizio non è stato dei migliori, però ora ci siamo ripresi e vogliamo continuare su questa strada, che sia Catania, che sia Lecce, che sia Regina, noi dobbiamo pensare solo a scendere in campo con l'atteggiamento giusto, sappiamo di potercela giocare con chiunque, se abbiamo questa fame, questa cattiveria e questo spirito di squadra. La presenza di un giocatore come Massimo Loviso è sì competizione per il posto, ma è anche un'occasione per stare accanto a un giocatore e una persona di grande spessore? Sì, assolutamente, Massimo è una persona davvero, anche quando giocavo io e non giocava lui, mi ha sempre supportato, mi ha sempre consigliato cosa fare, si è sempre comportato alla grande con me, al di là della competizione, che poi c'è la competizione ci sta perché giocarsi un posto è così, però lui davvero è sempre stato un'ottima persona e mi ha sempre saputo consigliare, dare consigli giusti. Adesso parliamo della prossima sfida, a partire da quella gara di andata che ha segnato un po' l'inizio del nuovo corso con Mr. Braglia, una conclusione che vi è costata cara, poi la vittoria bella, importante in Coppa Italia con le due reti di Liguori e poi adesso la prossima sfida. Sì, conosciamo bene, conosciamo bene il Catania come squadra, sappiamo che comunque sono un'ottima squadra perché sono secondi in classifica, sì, all'andata era la prima partita del mister, hanno vinto la partita 1-0 con l'unico tiro in porta che hanno fatto, mentre la partita di Coppa Italia è stata totalmente un'altra partita, siamo riusciti a passare in vantaggio, con un doppio vantaggio di Liguori e loro ci hanno fatto il gol del 2-1, però è stata una vittoria meritata, diciamo, anche se loro ce la siamo giocati alla grande, possiamo dire. Sì, la conosciamo bene come squadra e sappiamo cosa dover fare per metterli in difficoltà.